Sì, lo so, lo so, lo so Mi li iscritti le mie fasi da un po' Però, 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 questa cosa qua che ho da unboxare Non potevo prenderla prima perché non l'ho trovata prima Quindi appena l'ho trovata l'ho presa Direi senza ulteriori luci di andare a vedere di che cosa si tratta, va? Allora, arriva in questa grande scatola Che si chiama Freeline Dopo c'è scritto da questa parte Comfort Freeline Made in Italy Idem la stessa cosa sopra Lateralmente Lateralmente E lateralmente Attenzione, però qui abbiamo delle scritte in più Ref Davide B Color blue size 44 Attenzione E invece sotto Niente, tutto bianco Voglio andare a vedere cosa faccio dentro? Andiamo a spacchettare Uh, allora, c'è questa cosa qua Via Ma sono delle sciabatte OMG È vero, ho preso delle sciabatte nuove Adesso ve le faccio vedere E... Butto via la scatola che tanto non serve Sono delle sciabatte nuove Quindi, ragazzi, nuove sciabatte Allora, questo era un unboxing nuovo Che volevo portarmi come speciale No, in realtà Mi spiace non aver fatto nessuno speciale Però non saprei davvero cosa portare Ho detto, vabbè Eh, appena compro delle sciabatte nuove Visto che avete visto che sono Tutte ristrutte Faccio l'unboxing E dico, vabbè, dai Questo è lo speciale dei 1000 Quindi, ragazzi Come al solito Se questo video vi è piaciuto Pollicione in su Eh, noi ci vediamo stasera con Speciale Wonder Trade Perché siamo reti a 10 Dove potrete ritirare Una delle coppie Che abbiamo distribuito Nel giro di questi Wonder Trade Vi lascio comunque al trailer Di questa sera Noi ci vediamo Presto, presto Ciao Avete gioito con noi Ok Yes Vaffanculo Giapponese Vaffanculo Avete scambiato con noi Calma, basta il valore Dururu Se vuoi la mail Poi te la posso dare in privato Non mi piace dare la mia mail Così Se no vai sulle proposte commerciali Avete sofferto con noi Lo regge Si, lo regge Regge Attenzione No, l'altra volta No, l'altra volta Oggi Se avete perso Un Wonder Trade Potete rimediare Perché oggi 23 marzo Potete ritirare Una delle coppie Che vi mancano Stasera Ore 21 e 30 Solo So, level up to you Yeah Yeah No, l'altra volta Selo So, level up to you That's a victory